Il DDL Capitali è stato accolto con molto favore, ma anche con molte critiche, tra queste anche quella di protezionismo. Cosa ne pensa? Scusate, io queste critiche al DDL Capitali fatico a vederle, non perché ne sono stato parte, ma dove sono le critiche? Dov'è il protezionismo? Nel mio intervento ho cercato, dati OXE alla mano, di dimostrare come il DDL Capitali sia esattamente in linea con le best practice di tutti i paesi OXE. Ma guardiamo i numeri, guardiamo i dati, io queste critiche di protezionismo non solo non le condivido, ma non le capisco. Parliamone, io sono sempre stato aperto al dialogo ed è per questo che mi dispiace che le critiche arrivino dopo e non si siano tradotte in warning prima. Il rapporto OXE è un'occasione formidabile per avere il peso di quello che è il sistema europeo e mondiale. Bene, ditemi dove il DDL Capitali è distonico rispetto alle regole OXE e io sarò felice di confrontarmi. Numeri alla mano però. Perché sono abituato a pensare a questo sbaglio? Noi siamo in un ottimo punto rispetto al benchmark OXE perché come dicevo, anche se pensiamo che l'erba del vicino sia sempre la più verde, in realtà il benchmark OXE noi siamo molto avanti e devo dire che il DDL Capitali, soprattutto rispetto al benchmark OXE, ci porta ancora più avanti. Siamo paradossalmente molto più avanti di tanti paesi che hanno mercati di capitali più evoluti. E rispetto ai report di Assonima sull'integrazione della sostenibilità nelle imprese italiane? Siamo a un medio livello, possiamo fare meglio, ma si può sempre fare meglio. Sono convinto che l'integrazione della sostenibilità sia anche un fattore dimensionale dell'impresa. È più facile integrare la sostenibilità su un modello industriale grande. In Francia è più facile che in Italia. Noi abbiamo una polverizzazione del sistema industriale che rende paradossalmente più difficile integrare a pieno, a livello di numeri perlomeno, il modello di sostenibilità. Questo non vuol dire che dobbiamo rallentare, vuol dire che dobbiamo però essere consapevoli di come sia funzionalmente meno semplice integrare questo modello.